Buongiorno e buona domenica a tutti. Primo giorno di settembre. Ringraziamo il Signore, ringraziamo la Madonna, affidiamoci a Gesù e a Maria. Settembre è sempre il mese della ripresa, no? Si ritorna dal mare, si ritorna a scuola, si ritorna all'ordinarietà. Arrivano in chiesa i nostri bambini tutti scuretti e abbronzati perché i bambini non li distogli mai dalle nostre parti, dall'acqua e dal sole. E poi, che bello, no? Comincia a fare fresco, quindi hai quel viso abbronzato, però devi mettere la prima giacchettina. E che bello poter riprendere tutto. Mi dice uno che non ha mai fermato la sua attività. E sono contento di essere stato con voi tutta l'estate. E chiedo al Signore di poter essere insieme anche tutto l'autunno, tutta la primavera, tutto l'inverno prima. Di poter stare tutti i giorni insieme. Questa grande famiglia è bella perché Noi una cosa facciamo, preghiamo e diciamo al Signore, alla Madonna, ho bisogno di te. Questo facciamo. E poi cerchiamo di sostenerci l'un con l'altro perché conosciamo la nostra fragilità e la nostra debolezza. Io sono già in chiesa e tra poco, ecco naturalmente sempre per chi ascolta prima il video, alle 7.30 abbiamo il quinto giorno della novena a Maria che scioglie i nodi. Avete sentito quello che vi ho detto ieri sera nel video della Buonanotte, non so se tutti lo seguite, ma io credo tanto in questa devozione, ma soprattutto credo tanto nell'amore di Maria per noi. Credo tanto, tanto, tanto. Ed è per questo che insieme a voi questa domenica mattina voglio pregare e mettere tutto nel cuore di Maria, nel cuore di Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Settembre si riprende anche a viaggiare. Il 10 di settembre esce un nuovo mio libro, che più di essere un libro è uno strumento di preghiera. C'è tutto il rosario meditato con la vita dei Santi per poter pregare, ma c'è anche la vita di quattro Santi e c'è una parte dedicata al Giubileo. O Mamma Celeste si intitola, edito dalla Tau Editrice, dal 10 settembre. E poi vi comunico nei prossimi giorni alcune date. Tra poco pregate con me alle 7.30 il rosario e la novena a Maria che sceglie i nodi. Buona Domenica a tutti. E non dimenticate la Messa. E non dimenticate che Gesù ci chiede di essere buoni. E non dimenticate che Gesù ci chiede di essere buoni.